Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Materassi Materasso Matrimoniale Sfoderabile. Il Materasso Topore 2-5 Sfoderabile è dotato di una doppia pantografia posta su entrambi i lati per sorreggere il vostro corpo in modo ottimale. Da un lato è dotato di una lastra di memory foam alta 6 cm, che è uno dei materiali più moderni per la preparazione di materassi ed è in grado di reagire alla pressione e al calore del corpo così da automodellarsi per accogliere in modo ottimale il corpo, mentre l'altro lato è dotato di uno strato di poliuretano espanso ad acqua, che garantisce una portanza rigida e sostenuta anche a spessori sottili. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T., clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.